Domenica 30 settembre 2012, bentornata a prima categoria. Ai nastri di partenza del Girone C, ecco il derby del Selva De Pini tra Indomita Pomezia e Team Nuova Florida. Da una parte i padroni di casa, tra senatori, nuovi innesti e ambizioni. Dall'altra i biancorossi di Mister Cicciani, che non vogliono toppare l'esordio in prima classe. E pronti via, gli Ardiatini fanno subito sul serio, con una stella su tutte, Aurelio Aquilani. E il sesto, Leoni salta l'uomo sull'out sinistro, lo vede lo serve con uno splendido assist rasoterra. Stop è finta di Aquilani che la mette sul sinistro e calcia, deviazione decisiva di Messina che spiazza Grossi ed è 1-0 Nuova Florida. L'Indomita prova a riorganizzarsi, ma Aquilani ruba la scena. Al venticinquesimo, sciabolata a profonda di Navisse per l'ex Cori, che dal vertice sinistro dell'area converge. Prepara al destro di incrociare verso il primo palo ed è 2-0. Un inizio scoppiettante per gli ospiti, ma l'Indomita non molla e tira fuori l'orgoglio. Alla mezz'ora, Guizzo di Campea che sguscia al limite dell'area. Colonnelli lo ferma con le cattive ed è ammunizione e calcio di punizione. Batte secco e potente Capitan Messina e Castellani si oppone di pugno. La spinta degli Indomiti non si placa e proprio prima del time-out viene premiata. Dalla mediana, ancora Campea apre tutto per Zanotti, che crossa a basso verso il centro. Arriva lo sesto Campea, che chiude il triangolo largo con un tappin vincente ed è in rete, 1-2. Nella ripresa, il team Nuova Florida ci rimette subito in carreggiata. Al secondo minuto, calcio d'angolo di Costanzo, svetta Fieni più in alto di tutti ed è 3-1. Imperioso lo stacco di testa del talentuoso attaccante Tuttofare degli Ardeatini, che poco dopo prendono il largo. Lancio profondissimo di Ciccolini, il neoentrato Salvia crossa di piatto verso Aquilani. Controllo soft col Mancino, poi la piazza ed è 4-2. Hat-trick, tripletta di Aurelio Aquilani, che porta via il pallone come da tradizione britannica. E la mezz'ora, il neoentrato vice allenatore dell'indomita Ciasca scodella in aria. Contatto vigoroso tra Rendina e Schiavello ed è calcio di rigore. Proteste vigorose dell'ex città di Aprilia, ma l'arbitro è irremovibile. Dal dischetto va il giovane Mugnaioli, che mira a destra, Castellani intuisce la tocca, la palla schizza ed è in rete. 4-2. E finisce così, esordio in prima con i tre punti per il team Nuova Florida, che vince e convince. Non delude invece l'indomita, il cui nuovo ambizioso corso è appena incominciato. È stato un buon inizio di campionato, anche se abbiamo pagato un po' l'emozione della categoria. Abbiamo impostato un po' il nostro gioco, il possesso palla, con le verticalizzazioni. Oggi tra la sfortuna e l'avere incontrato Nuova Florida, che è un'ottima squadra, perché ovviamente l'anno scorso ha vinto il campionato di seconda categoria quasi in solitaria. Però ecco, partivamo sfavoriti, però ci siamo, possiamo andare avanti.